E a me piace fare le compilations. Fa lavoro in un negozio di dischi. Ecco, fai il consulente musicale. Facciamo conoscere ancora più musica e guadagniamo ancora più soldi. E chi cazzo è che si compra 5 miliardi di lire in cassette Verge? Rischi zero e diventiamo ricchi. Noi e voi. Chi sbatta il galera? Pronto, facciassi giù! Il giro d'affare è diventato importante. Quanti fratelli siete? Non siamo due, siamo tre. Tutti voi tre, Mick, Seth e Bayer. Tecnicamente tutti e tre. Soprattutto se parliamo in termini sociali. Maggio, Harry, chi cazzo è? E lui, io no. Fixers by Harry! Tieni un modo strano di fare il DJ? Non mi piace. Siete la prima etichetta discografica in Italia. Questi ci vogliono fare la guerra. E noi ci prepariamo a vincerle, mo' la guerra. Io volevo solo fare il DJ. Gloria, gloria, chiesa di campagna, gloria, acqua nel deserto, gloria.